Seconda trasferta consecutiva, questa volta saremo sul campo di Cantù, squadra che dal cambio in panchina e ritorno alla guida della società Brianzola di Coccia Recalcati, il decano dei nostri allenatori, ha trovato due vittorie consecutive, l'ultima tra l'altro in trasferta a Caserta, quindi troveremo una squadra che avrà grandissimo entusiasmo, entusiasmo riportato dai risultati e dal cambio di guida tecnica, una squadra che si è tolta un po' dalle sabbie mobili del fondo classifica, ma che quindi sicuramente proverà a dare continuità a questi risultati, cosa che ovviamente è anche nel nostro interesse, il nostro obiettivo è ovviamente anche il nostro dare continuità ai risultati, provare a vincere una seconda partita consecutiva in trasferta che ci terrebbe agganciata al gruppo delle squadre che stanno continuando a lottare per un posto playoff. Pericoli numero uno, senza ombra di dubbio Joan Johnson che arriva da due partite importanti, l'ultima ricordiamoci ha segnato 35 punti e l'ex di giornata David Cornu che nelle ultime due partite ha prodotto una media di 20 punti, quindi un grandissimo momento di forma. Sono una squadra che ha il grandissimo talento offensivo, non dimentichiamoci il playmaker Daudel, la piccola Darden, l'esterno Fran Pilepic che ha molto dal quintetto e che però sta trovando in queste ultime due giornate qualcosa di importante anche dalla panchina, forse quello che era mancato un po' prima oltre a un po' di chimica di squadra. Partita assolutamente da prendere con le pinze, partita dove bisognerà dare continuità non solo alla parte offensiva ma anche e soprattutto alla parte difensiva e bisognerà trovare il modo di non solo limitare le loro maggiori bocche da fuoco ma anche di non permettergli di giocare di squadra.